In acqua all'atleta della batteria 10 andiamo a presentare ad introdurvi le ragazze che prenderanno parte alla serie successiva, la 9 Letizia Righi in 1, Sofia Squizzato alla 2, Rachele Cavalieri in 3, Benedetta Zattara alla 4, Nicole Bobinazzo in 5, Simona Messinesa alla 6, Delia Rossini in 7, Asia Bertozzi in corsia numero 8 Dalla corsia 8 in 29 e 84 che San Ambrosi si aggiudica questa serie